ucchielli colto da malore rassicura dall'ospedale paletti al porto chiesta ufficialmente la rimozione sciopero del settore legno in 2000 in piazza 25 aprile sarà spettacolo aereo sul cielo di montecchio teatro ecco la stagione di prosa di pesaro capitale venerdì 21 aprile buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione delle venerdì apriamo oggi occupandoci delle condizioni di salute di uno dei personaggi politici più noti del nostro territorio ovvero di palmiro ucchielli che da ieri è ricoverato all'ospedale santa croce di fano per un sospetto principio di ictus ma come vedremo del nostro primo servizio è lo stesso ucchielli che abbiamo raggiunto telefonicamente a rassicurare in merito alle sue condizioni di salute attimi di spavento per il sindaco di valle foglia palmiro ucchielli colpito da un malore ieri mattina mentre si trovava nel suo ufficio in comune l'ex presidente della provincia è stato portato immediatamente all'ospedale santa croce di fano dove ora si trova in osservazione con una prognosi di 72 ore sembrerebbe trattarsi di un ictus un malore dovuto ad un grumo di sangue costruiva la fluidificazione neurologica le condizioni di ucchielli 73 anni compiuti a gennaio sono attualmente stabili e il senatore può considerarsi fuori pericolo nel frattempo il primo cittadino di valle foglia ha già iniziato a muoversi a camminare tutto sommato almeno per momento sembra abbastanza bene insomma nel senso che diciamo questa mancanza di fluidificazione del sangue nella parte sinistra della gamba e del braccio si è ritornata nella sua normalità spero non ci siano altre complicazioni per il resto come si sente sto parlando abbastanza bene insomma spero di averla superata ma è stata una bella batosta sempre di più star attenti a faticarsi forse anche un po di meno insomma ecco qui nel reparto di fanno sono stati bravissimi devo dire gente di grandissima qualità e quindi spero di uscirne bene quanto prima ecco un piccolo segnale di malessere il sindaco di valle foglia lo aveva già percepito da qualche giorno riconducibile ad un leggero fastidio di cervicale come sempre alle 6 e mezzo del mattino mi sono recato in comune e ho avuto un fortissimo diciamo dolore diciamo sotto le spalle e ho fatto un scorino voltare per i dolori della cervicali invece dopo un'oretta ho cominciato a sentire un po della mancanza di forza nella parte sinistra del corpo e abbiamo chiamato il 118 sono venuti subito e hanno deciso di portarmi medialmente che li fanno e hanno fatto un trattamento particolare per riattivare la circolazione del sangue quindi è stato io sono rimasto sempre molto tranquillo molto sereno però insomma è stata una bella roba tosta insomma Attimi di paura alla quale si è unita però la tanta solidarietà di numerose persone che si è stretta attorno all'animo combattivo del sindaco Ucchielli ho avuto centinaia e centinaia di messaggi di solidarietà di preoccupazione vorrei tranquillizzare tutti che spero insomma che grazie alla medicina grazie alla capacità dei medici cittadini di tornare quanto prima alla normalità ecco non ho mai visto tanta solidarietà sono un po anche emozionato devo dire e questo mi fa piacere mi gratifica e dunque in bocca al lupo a palmiro Ucchielli per una pronta guarigione anche da parte di tutta la redazione di Rossini TV avevamo incontrato Ucchielli appena due giorni fa per presentare quelle che saranno le celebrazioni del 25 aprile che saranno accompagnate da uno spettacolo aereo sui cieli dei comuni del pian del bruscolo come ci aveva ricordato lo stesso Ucchielli in questa intervista che vi mostriamo 25 aprile insomma è una data importante della democrazia e della libertà nel nostro paese si terrà insieme con l'Unione dei Comuni al cimitero degli inglesi canadesi gestito direttamente dal Comul che è un'associazione internazionale a cui lo Stato italiano ha affidato quel cimitero di Montecchio e ci sarà per la prima volta la fanfare i bersaglieri le frecce tricolori e questa è una novità grazie all'associazione Redici Combattenti e all'AMP e tutti quelli che hanno collaborato che saranno presenti e all'associazione perché per noi è una prima volta ma c'è sempre una prima volta ma del resto quel cimitero è diciamo emblematico di come non toccherebbe mai fare le guerre quindi anche diciamo quel volo delle frecce tricolori testimonia l'unità nazionale la libertà la democrazia sarà una cerimonia in due giorni una giornata al monumento di tavuglia di nella zona di tavuglia dove c'è quel car armato inaugurato dal povero ministro della difesa andreatta e poi questa deposizione della corona per ricordare le centinaia di morte della seconda guerra mondiale ecco sarà un evento importante speriamo che sia al tempo buono ed è due giornate con le scuole pian del bruscolo l'orchestra della scuola media pian del bruscolo importanti dal punto di vista della democrazia della libertà che non è mai conquistata una volta perduto è un messaggio di pace contro le tante guerre che esistono ancora nel pianeta celebrazioni della festa della liberazione naturalmente anche a pesero martedì 25 aprile alle 9 ci sarà la messa in memoria dei caduti per la libertà in cattedrale alle 10 la deposizione delle corone al sacrario di piazzale collenuccio alla cappella votiva di sant'ubaldo alle 10 tre quarti corteo di autorità associazioni cittadine verso il monumento alla resistenza dove saranno previsti interventi dell'associazione combattentistica d'arma e dell'associazione nazionale partigiani d'italia oltre a rappresentanze degli studenti e al discorso del sindaco matteo ricci presterà servizio d'onore un picchetto dell'esercito italiano con cerimonie accompagnate dalla banda di candelara e torniamo al porto di pesero dove continua a far discutere l'installazione di paletti protettivi sul molo di levante predisposti dalla capitaneria di porto della città il sindaco ricci ne ha chiesto ufficialmente la rimozione ma è probabile che ci sarà una sostituzione è come se un'onda di dissenso si fosse infranta sul molo di levante ovvero su quel tratto del porto di pesero con una vista panoramica con poche uguali in città che da ieri si ritrova disturbata dalla predisposizione di paletti protettivi biancorossi la cui installazione è stata accompagnata da un tantam social di disappunto per un effetto deturpante al di là di una misura di sicurezza ritenuta di dubbia efficace e parte integrante del coro di dissenso il sindaco di pesero matteo ricci che ha chiesto ufficialmente la rimozione all'attualità portuale la quale ha semplicemente recepito una direttiva della capitaneria di porto o meglio di un provvedimento voluto dall'ex comandante della guardia costiera barbara magro che ha lasciato pesero lo scorso settembre predisponendo questa misura per l'estate 2023 e che oggi non fa altro che applicare la capitaneria attualmente preceduta da claudia di lucca l'autorità di sistema portuale attraverso una nota ha già chiarito che il provvedimento viene realizzato per il miglioramento della sicurezza dell'area portuale dove è consentito l'accesso pubblico l'installazione di carattere provvisorio per rispondere alla richiesta dell'autorità marittima autorità portuale che si dice già interessata a concordare la predisposizione di adeguamenti più idonei anche sotto il profilo estetico condivisi con l'amministrazione locale un'eventuale sostituzione sulla quale interviene il consigliere regionale andrea biancani ho contestato al di là della bellezza di questi paletti io non ne vedo sicuramente la esigenza in quel punto del porto non è mai successo nulla se poi dovessimo mettere i paletti lungo le darsene dove 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 la darsene non è protetta dovrebbero mettere i paletti dappertutto e non si è mai visto un porto con i paletti per evitare che le persone cascono cascono in mare il porto di peso è grande andare a mettere i paletti lungo 100 150 metri secondo me non è non è sicuramente indicato ma io ho sentito qualcuno che ha rilanciato dicendo che almeno che vengano messi più carini io sono contrario al fatto che vengono me anche se sono messi più carini perché dal mio punto di vista non devono essere messi perché non hanno un senso in nessun porto ci sono i paletti appunto per evitare che le persone cascano in acqua il porto di peso ha altri problemi prima di tutto il tragaggio quindi e quindi come autorità portuale ritengo che si debbano debbano accelerare per questo progetto che deve consentire di far vivere il nostro porto e dall'altra parte se c'è un problema di sicurezza c'è lungo la strada dei due porti dove ormai lo sanno tutti ma sono e anni che ci sono i ragazzi che con le moto con le macchine fanno oltre 100 km orari in una strada stretta dove ci sono le persone e devo dire che ho visto molto raramente delle pattuglie ferme per controllare appunto queste persone che vanno ad alta velocità circa 2 mila lavoratori del settore del legno delle regioni centrali si sono ritrovate questa mattina in piazza del popolo a pesaro per una giornata di sciopero proclamata dalle organizzazioni sindacali cgl cis le will e motivato dalle questioni che approfondiamo in questo servizio di gaia morri mentre a milano viene presentato il salone del mobile che mette in luce il prezioso lavoro dei prodotti made in italy questa mattina a pesaro uno dei distretti industriali del mobile più importante i sindacati sono scesi in piazza per sottolineare le condizioni di chi quei prodotti li costruisce lavoratori provenienti da marche umbra abruzzo e molise insieme ai propri rappresentanti di categoria hanno organizzato un corteo da piazza della libertà fino a piazza del popolo chiedendo il rinnovo del contratto nazionale con federlegno che consente di recuperare il potere d'acquisto degli stipendi scaduto lo scorso 31 dicembre è mai stato riconfermato abbiamo volutamente scelto questa giornata nazionale di sciopero proprio per dare un segnale politico importante a fronte della settimana del mobile proprio perché vanno a esprimere il valore aggiunto di questo paese è immaginabile che ci sono dei prodotti di eccellenza e le stesse aziende non non vogliono riconoscere giusti i salari e diritti dei lavoratori è uno sciopero importante perché la manifestazione è conseguenza dello sciopero sette piazze d'italia per dire che noi vogliamo rinnovato il contratto del legno arredo industria con delle risposte sostanziali in termini economici ai lavoratori perché il lavoro è dignità e deve tornare ad esserlo i lavoratori hanno perso tantissimo potere d'acquisto in questi anni l'italia è l'unico paese in europa che in 30 anni ha visto ridurre a un segno negativo il potere d'acquisto dei dei lavoratori noi chiediamo l'adeguamento rispetto all'inflazione la risposta di federlegno è stata blocchiamo il contratto e vediamo eventualmente qualche briciola rispetto all'inflazione depurata dai costi dei beni energetici quando oggi purtroppo sono proprio quelli che insistono sui prezzi e sul potere d'acquisto dei lavoratori che soltanto nel 2022 hanno perso più di una mensilità noi chiediamo appunto a un settore che ha guadagnato tanto negli ultimi anni nell'anno scorso 56 miliardi di fatturato il 12 per cento in più di export il 13 per cento di vendita in italia che questi guadagni questo profitto sia ridistribuito ai lavoratori si punta anche oggi al salone del mobile al dire spingiamo sul made in italy il made in italy si ha e si ha la qualità del made in italy grazie anche alla fatica di questi lavoratori che deve essere ripagata e devono lavorare con dignità vogliamo che si riapra il tavolo negoziale la controparte aveva lasciato il tavolo quando ci siamo visti l'ultima volta a febbraio stiamo chiedendo cose vogliamo riconfermare cose che già avevamo cioè l'impianto dell'ipca non depurata quindi è giusto non stiamo chiedendo nulla di nuovo vogliamo che venga riconfermato questo sistema che fa recuperare i lavoratori inflazione reale questo è importante in periodi come questo che stiamo attraversando siamo qui con grandi marchi che fanno la differenza e che incidono nel territorio quindi per il territorio marchigiano è importante il rinnovo di questo contratto perché significa rispettare gli operai la marcia di avvicinamento a pesaro capitale della cultura 2024 da oggi include anche la stagione teatrale di prosa che è stata presentata nella sala della repubblica del teatro rossini questa mattina un ricco programma redatto da amat che ci accompagnerà da ottobre 2023 a maggio 2024 la presentazione della stagione di prosa non a caso si intitola stagione capitale tantissimi gli appuntamenti la presentazione è avvenuta questa mattina presso il teatro rossini di pesaro che peraltro ospiterà tutte le opere di prosa della prossima stagione una stagione capitale dieci appuntamenti 40 serie di spettacolo tanto divertimento tanta riflessione protagonisti più grandi della scena italiana insomma pesaro gioca inizia a giocare le sue carte lo fa creando una stagione in qualche modo xxl dove tanto divertimento da virgine raffaele drusilla foer arturo brachetti tanti grandi artisti tanti grandi registi una stagione tutta da gustare che sicuramente sarà una delle attrazioni principali anche di questo anno in cui tutte le luci della nostra nazione saranno accese sulla nostra città tutto il teatro rossini finalmente riaperto dopo i lavori di ammodernamento e di per renderlo ancora più bello e accogliente siamo sempre almeno le quattro repliche quindi 40 appuntamenti di prose in questo caso è un abbrivio tra il 23 e 24 quindi come si diceva crea le condizioni per il clima migliore per la capitale 24 e la inizia in augura fondamentalmente con la residenza di allestimento di virginia raffaele a gennaio e quindi insomma il teatro che svolge la sua e solo la protagonista nella stagione della capitale italiana e come luogo innanzitutto restituito non solo la salve pubblica dove siamo oggi ma anche il ritorno completo al alla funzionalità del teatro che quindi insomma sarà uno dei migliori regali per i pesaresi anche per tutti quelli che lo scopriranno e vi ricordiamo che potrete ulteriormente approfondire la stagione ammat di teatro di prosa di pesaro capitale della cultura in uno speciale che trasmetteremo martedì 25 aprile alle ore 21 e 20 ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 una nostra telespettatrice ci segnala oggi lo stato di grado di via fratte a monte labate dove come documento attraverso queste immagini è assolutamente assente la manutenzione del verde con la vegetazione incolta che sconfina su marciapiedi e sulla strada che tra l'altro non viene asfaltata da anni uno stato di abbandono sul quale i residenti hanno più volte informato il comune ma sul quale non sono ancora stati presi provvedimenti e torniamo a pesaro per una curiosità le panchine bianche e rosse rimosse recentemente dalla palla di pomodoro hanno trovato una nuova sistemazione in e viale trieste nel giardino alle spalle del locale frontemare in questo luogo aspe sta realizzando un nuovo accogliente spazio appunto del litorale all'insegna del verde grande successo per il pizzaiolo tavugliese gigi capasso il titolare della pizzeria da zio gigi di rosalzo si è classificato secondo ai mondiali di pizza che si sono tenuti in questi giorni a parma e dalla pizza ad un piatto che invece è l'orgoglio di marotta parliamo dei garagoi la sagra dei garagoi che torna domani ed è anche una delle più antiche sagre in assoluto delle marche visto che si tiene dal 1948 dunque da domani a marotta per quattro giorni stand di degustazioni gare fra ristoranti concerti e spettacoli un nuovo evento sportivo nel segno di marco pantani domenica 23 aprile si terrà infatti la prima edizione della gara ciclistica per giovani categoria elite under 23 sulle strade di marco pantani ovvero un percorso dalla città natale di cesenatico fino all'arrivo a carpegna sulla salita simbolo degli allenamenti di pantani che recentemente è stata ufficialmente ribattezzata passo marco pantani parliamo anche di musica domani alle 21 la chiesa dell'annunziata ospiterà il concerto di pasqua in onore di maria luisa biscuola indimenticata e amata segretaria del circolo amici della lirica un circolo che organizza dunque il concerto che vedrà l'esibizione dei giovani studenti della classe di canto di agata biancosca del conservatorio rossini in aree e duetti tratte dal demesia di endel e invece domenica 23 aprile nelle vie del quartiere pesarese di muraglia si terrà il trofeo prefab muraglia con circa 200 atleti coinvolti si tratta della prima iniziativa pubblica delle consorzio sportivo pesarese recentemente costituitosi grazie all'impegno di tre società il muraglia calcio la pisarum young riders di ciclismo e torolski center di pattinaggio la manifestazione inizierà alle 9 con l'esibizione di pattinaggio a cura di torolski alle 10 la gara ciclistica dedicata alla categoria giovanissimi e in contemporanea la gara al campo sportivo di vie garrone si terrà un quadrangolare di calcio rivolto alla categoria pulcini 2013 del muraglia continuano gli eventi storici divulgativi dell'associazione culturale storia e nazione che all'hotel alexander museum palace di pesaro approfondito questa volta la figura storica di giovanni gentile si tratta di una ultima iniziativa che segue altre che la nostra associazione culturale ha allestito in relazione alla esaltazione del patrimonio nazionale italiano il suo patrimonio storico culturale letterario e filosofico che questa volta è dedicata non tanto solo la figura di giovanni gentile che è stato un grandissimo filosofo neo idealista italiano del 1900 ma soprattutto alla sua uccisione il 15 aprile del 1944 ad opera dei gap a firenze che è stata un evento tragico la cui maturazione avvenuta nel contesto della guerra civile italiana ma dove insieme a tanti misteri che si sono addensati nel corso del tempo sono scaturite delle risposte molto importanti giovanni gentile è stato trattato come una sorta di parente scomodo del quale liberarsi è calata sopra di lui una damnazio memorie tesa mortificarne il pensiero è stato uno dei lucidi più intelletti più lucidi della storia italiana e non solo è stato ministro della funzione pubblica autore della riforma gentile creatore dell'enciclopedia treccani che è stata una dei più grandi patrimoni della storia nazionale italiana grande pedagogista insigne filosofo che si è posto sulla scia del neo idealismo superando anche lo stesso e giovanni gentile pertanto deve essere recuperato al di là della sua tragica morte per rivalutarne la figura nobile di filosofo e anche di uno dei padri del pensiero italiano associazione culturale ancora all'inizio è logico che i personaggi che lavorano sono sempre i soliti vorremmo che si aggiungessero anche altri e stiamo già lavorando per questo e a breve avrete anche una bellissima sorpresa perché usciremo con una cosa molto molto bella si può anticipare ma si tratta di un nuovo sito internet con dentro delle persone nuove che lavoreranno a una cosa molto molto bella ancora è troppo presto per dirlo ma è imminente si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale rossini news prima di salutarci vi ricordo la nostra prima serata che in questo venerdì alle 21.20 è dedicata alla seconda puntata d'approfondimento sulle attività dell'azienda cosmo life azienda di rio salso oggi parleremo del prodotto solette realizzato da cosmo life e poi vi ricordo che l'informazione su rossini tv torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali buongiorno rossini rassegna stampa che per l'occasione sarà condotta dal nostro antonio astuti e invece si conclude qui questa edizione informativa delle telegiornale rossini news da parte mia di tutta la redazione vi auguro una più cordiale serata vi ringrazio per averci seguito e vi auguro anche un buon weekend in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti